buongiorno a tutti ragazzi sto aspettando fabba perché oggi con lui andremo sullo stelvio gavia stelvio resia lago di resia che non sono mai stato che quel famoso lago con il campanile in mezzo sunshine in forma non usciamo da un po l'ho settata in modalità viaggio come potete vedere ho messo le borse perché essendo l'undici settembre le temperature sono un po ballerine quindi mi sono portato dietro a parte vabbè l'antipioggia anche qualcosina da mettere sotto il giubbotto qualora la temperatura si facesse rigida perché comunque adesso non mi ricordo il gavia quant'è ma lo stelvio mi pare sia 2700 e insomma meglio avere qualcosa in più che qualcosa in meno ho montato anche il parabrezza trasparente solitamente io ne ho uno nero è un po più sportivo ho deciso di montare questo proprio perché voglio testare anche l'action sulla sulla moto siamo pronti aspetto ste e poi si parte a presto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.